Nuove regole sul lavoro da oggi per chi ha più di 50 anni che deve mostrare il super green pass sia nel pubblico che nel privato. Pena la perdita dello stipendio. E' questa l'ultima misura in tempo di covid per contrastare il virus il quale secondo gli ultimi dati ha visto flettersi la curva dei casi del 30 per cento a settimana e calare le terapie intensive. Da oggi quindi e fino al 15 giugno gli over 50 devono avere il certificato rafforzato anche se lavorano in un negozio o in un ristorante. Chi non sarà in regola al di là della vaccinazione basta aver avuto o essere guarito dal covid non potrà neanche chiedere di essere messo in smart working manterrà il posto di lavoro ma non verrà pagato. E chi ha meno di 50 anni c'è l'obbligo di mostrare almeno il green pass base quello rilasciato anche solo con un tampone antigenico valido 48 ore o molecolare con validità di 72. Intanto mentre si stima che siano 500 mila i lavoratori Novax che perderanno lo stipendio uno studio dimostra che le varianti non bucano i vaccini. Abbiamo sempre condiviso e sostenuto la necessità di introdurre l'obbligo del vaccino anti covid soprattutto per determinate categorie o fasce d'età afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti. Nella nostra regione oggi risultano circa 68 mila over 50 non vaccinati. Ovviamente solo una parte di questi ha aggiunto Toti è in età lavorativa e fra questi c'è chi ha contratto il covid ed è guarito ed è quindi in possesso del green pass rafforzato da guarigione e una parte esentata dal vaccino per motivi di salute. Le altre scadenze in calendario sono quella del 28 febbraio con la distribuzione gratuita nelle scuole statali e paritarie delle mascherine FFP2 ad alunni e docenti che dovranno sottoporsi ad autosorveglianza. A giro massima attesa sul 31 marzo quando scadrà lo stato d'emergenza in vigore da oltre due anni. L'orientamento se continuerà il calo dei contagi e dei ricoveri è di non prorogarlo così come entro quella data si capirà anche se resterà o meno il green pass.